Ancora polemiche sulla sfida tra Aversa Normana e Juve Stabia, vinta dalle Vespe per 2-1 in pino recupero. Tanta tensione alla fine del match che esplosa in conferenza stampa con Pancaro che abbandona la sala Granata. Ma io non commento mai l'operato dell'arbitro, penso che non abbia assolutamente influito sul risultato finale. Io penso che la mia squadra abbia meritato la vittoria, formendo una prestazione veramente importante. Grazie. La dirigenza della Juve Stabia ha diramato una nota ufficiale per chiarire la situazione, dicendosi molto delusa per il comportamento del presidente Spezzaferri e dell'atteggiamento tenuto nei confronti della dirigenza stabiese, alla quale a fine gara è stato impedito di raggiungere la squadra e lo staff negli spogliatoi. Grazie. Grazie. Grazie.